Ciao amici Men Wow, benvenuti! Oggi vi porto alla scoperta di un agriturismo davvero fantastico. Siamo nelle campagne di Conversano, una ridente cittadina a sud-est di Bari, a più di 30 km da Bari, immersi in questa natura meravigliosa. Siamo alla Cassina dei Preti, una masseria fortificata che adesso è stata trasformata in un agriturismo completo di ogni comfort immerso in questa campagna, in questa natura eccezionale, dove poter riscoprire un po' di pace e tranquillità e avere un continuo contatto con la natura. Questo è il dialetto d'ingresso della masseria, della Cassina dei Preti, e ora vi mostro un po' quello che di bello c'è qui da fare. La masseria pugliese è una tipica costruzione in cui si svolgeva una vita propria, in cui le famiglie più prestigiose svolgevano le loro vite, scandite dai ritmi della natura, producendo i propri beni di consumo, producendo l'olio d'oliva, l'uva e tutto quello che è il tipico cibo buonissimo pugliese. Questo è il dialetto che porta all'ingresso della bellissima masseria che vedete. Guardate che meraviglia! Lì potete scorgere la chiesetta di famiglia, perché tutte le famiglie più prestigiose avevano all'interno della loro masseria una chiesetta deliziosa, in questo caso, dove potersi raccogliere in preghiera. Qui abbiamo il patio, dove vengono serviti i pasti buonissimi e le colazioni, e su ci sono tutte le stanze, come vedete. Se ci addentriamo, da questo delizioso cancelletto andiamo all'interno di quello che è il giardino più grande e più curato della masseria stessa. Qui ancora c'è l'angolino di verde che porta alle camere dove soggiornare, come vedete. In ogni angolo ci sono fiori, ulivi, vigne e posti che non possono che ricordarci quella che è la bellezza, quella che è la meraviglia, quella che è la magia della natura. Qui sotto questo patio ci sono delle macchine d'epoca, quasi a ricordarci quelli che erano gli antichi fasti della dolce vita, perché queste macchine d'epoca risalgono alle anni 50. Bene, da questo vialetto entriamo subito nella seconda parte dei giardini che caratterizzano la masseria. Qui ancora abbiamo un altro grande patio dove ci sono altre stanze e altri luoghi di ristoro dove magari cenare e intrattenersi con gli amici. Qui abbiamo un viale contornato e costituito da queste colonnine antichissime a cui piedi vi sono queste anfore, che è tutto caratterizzato dalla presenza di uva. Guardate, è uva. E qui inizia questa meraviglia di giardinetto con gli antichi olivi, altro albero simbolo della Puglia. Davvero stupendi gli olivi millenari della Puglia, questi sono un po' più giovani, però guardate che spettacolo, guardate che meraviglia. E in fondo abbiamo anche una bellissima piscina. Come vedete, guardate che spettacolo. Quindi in questi posti, meravigliosi, potrete davvero raggiungere un livello di pace e di serenità fantastici. Guardate, questa è la bellissima piscina, tutta circondata dalla tipica costruzione con un muretto a secco della Puglia che delimita tutti i contorni della masseria stessa. E io con queste immagini non vi posso che consigliare di venire in Puglia, anche perché la Puglia è considerata, è stata definita dal Lonely Planet e dal New York's Time come uno dei posti, come una delle regioni più belle del Marcos. Bene amici mio e nuovao, da queste immagini meravigliose, con queste immagini meravigliose io vi saluto, memento a odore sempre e venite in Puglia, la Puglia è una regione semplicemente meravigliosa. Un abbraccio, amici di Menuao, a presto!